quello delle imprese salernitane che attraverso la Camera hanno ricapitalizzato l'iniziativa ai rapporti. E' l'ultimo sforzo rispetto al niente della filiera istituzionale, per cui faccio un appello, è finito il tempo dei proclami, è finito il tempo delle dichiarazioni di intenti, adesso Regione Campania, Regione Basilicata soprattutto, diano un segnale forte ed immediato. Questa iniziativa, che non è l'iniziativa di Salerno, ma è un'iniziativa regionale e interregionale, perché serve a colmare i gap infrastrutturali anche del territorio della Basilicata, deve essere al centro dell'attenzione della prossima immediata agenda politica delle istituzioni.